Buongiorno a tutti, mi conoscete già tutti, quindi non so neanche se è il caso di presentarmi comunque. Oggi facciamo un piccolo escursus in quella che è la storia della demoscene e quindi il come siamo passati dall'informatica per il business, dall'informatica per i videogame, dall'informatica per qualcosa all'informatica per tutto, cioè la multimedialità, quello che oggi diamo per scontato in tutti i computer non c'era, i computer erano dedicati, l'IBM faceva la contabilità, o le vetti che sia, l'Apple faceva what you see is what you get ma non aveva l'audio, ma non aveva i colori, gli mancavano delle cose e poi un giorno è nata l'Amiga, è nata l'Amiga che ha rivoluzionato tutto l'opera di l'Amiga 1000 ed siamo passati da un computer specializzato a fare qualcosa benissimo a un computer che faceva tutto benissimo e quindi il primo, il precursore di ciò che oggi sono tutti i computer è stato sicuramente l'Amiga 1000, ha cambiato il mondo e quindi sulla scia di questo mega computer fantasmagorico due anni dopo il 500, che adesso poi andiamo a vedere, si creò un mondo che cambiò le cose insieme ai computer. Iniziamo con una piccola presentazione di chi sono io, io facevo parte di quei pazzi che in quegli anni hanno cambiato un po' le cose, ho fondato un gruppo che si chiama Rem Jam, di cui poi parleremo più avanti e mi occupo ancora oggi chiaramente di sicurezza informatica, avendo fatto l'Hacker per vent'anni ho continuato la mia carriera nel settore, mettiamola così, ho solo cambiato il cappello, il cappello che prima era nero perché facevo cose magari poco riconosciute dalla legge, ha invece un cappello bianco, cioè a difendere le persone dagli attacchi di quelli con il cappello nero. E arriviamo all'Amiga, questa è la famiglia dell'Amiga, sono tutti gli Amiga che esistono, che sono esistiti, dal più piccolino che è il 600, il primo, il 1000, quello al centro chiaramente, arrivare fino all'ultimo che sono i 4000 Tower, il 4000 Tower, che è l'ultimo in alto a destra, o il CD32 che era invece puro videogioco e non un computer. La famiglia Amiga è stato presentato come? Come multimedia, proprio nella presentazione, già il primo giorno che è uscito l'Amiga 1000, il signor Andy Warhol e la signora Debbie Herry presentarono alla televisione americana l'Amiga 1000 come? Con una fotografia presa in diretta da una telecamera, da Andy Warhol, il D-Paint, il software per colorare, l'antesignano del Photoshop per capirci e la signorina Debbie Herry che era stata ripresa in bianco e nero da questo digitalizzatore in diretta, è stata colorata in diretta da Andy Warhol e la gente chiaramente è rimasta sconvolta perché non si poteva fare prima, non si faceva. Quindi la presentazione stessa dell'Amiga 1000 è già multimedialità, è già arte, è Andy Warhol. Nell'87 poi cambiano le cose, perché? Perché il 1000 era bellissimo ma costava un fantastiliardo e quindi era per pochi, non per tutti. Nell'87 la Commodore decise di fare l'Amiga 500 per andare in un mercato che era quello che già possedeva con il Commodore 64, che però stava diventando obsoleto e quindi decise di fare questo prodotto low cost, low cost si fa per dire costava uno stipendio, però comunque era uno stipendio, non 10 come l'Amiga 1000 e ne vendete milioni, 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 facendo appassionare dei ragazzi alla multimedialità, alla realizzazione dei videogiochi, alla realizzazione dell'arte, alla realizzazione di quella che era grafica, musica, tecnologia. Successivamente uscì il 1200, che è la versione più potente e che è la base poi di quello che andremo a vedere più avanti. Queste sono pagine che ho scansionate da un bellissimo libro che è scritto un mio caro amico che si chiama Paolo Cognetti. Questo libro è 1975-1985, tutto ciò che c'è da sapere di quegli anni dell'informatica. E c'è una piccola parte che ho scritto io, nel capitolo 16, che parla appunto della scena, di che cos'è la scena e del perché è importante la scena. E che cos'è? Fondamentalmente è un insieme di tutti i ragazzi, ragazze e appassionati ingegneri di computer che hanno deciso di studiare cose bellissime e fare cose che non c'erano, cioè hanno inventato qualcosa che non c'era. E si sono messi prima a fare i pirati, cracker, ok? Faccio il cracker. Quindi prendo il gioco, lo copio in modo tale che lo posso duplicare e dare agli amici, dare ai conoscenti, vendere perché c'era gente che invece ci faceva anche del business su questa cosa. Poi i cracker si sono un po' evoluti e hanno incominciato a metterci delle intro, no? Cracket by Pippo, Cracket by Tizio, Cracket by il gruppo Vatela Pesca, in Italia famosissimi erano gli ICS, Italian Cracking Service, Comodo 64. E quindi un nuovo ruolo si è materializzato nella scena che era quello di colui che realizzava le intro e quindi nelle intro che cosa ci mettevano? Un bellissimo logo, un po' di musichetta, qualche fettino, qualche cosina che girava per farle un po' più accattivanti. E questo fenomeno ha creato una competizione, una competizione fra me, lui, lui e tutti quelli che facevano queste intro, a chi le faceva più bella? E i pirati prendevano, assoldavano, mettiamola così, in giro per il mondo, le persone più brave a fare grafica, a fare musica, per ottenere un risultato che era più bello degli altri, siamo più fighi, guarda c'ho la intro più figa, e comunque sempre correlato al mondo del Cracking, qua se parliamo del Comodo 64. La Miga nasce uguale, quindi la Miga nasce la stessa cosa, nasce questa competizione, ma con la Miga 500, con l'avvento della Miga 500 cambia tutto, perché? Perché tutti ce l'hanno, tantissime persone ce l'hanno, nuove persone, nuove leve si avvicinano a questa macchina e incominciano a fare musica, incominciano a fare grafica, ad altissimi livelli, perché la Miga te lo permetteva. E nasce anche una lingua intorno a questa scena, nasce una lingua, nascono delle parole che prima non esistevano, che oggi magari qualcuna è anche di uso comune, il Lamer, non so quanti di voi sappiano che cos'è un Lamer, ma tendenzialmente è uno che ci capisce poco di informatica e che sfrutta le capacità degli altri per dire, ah io so fare una cosa, che sei un Lamer, e questa è una parola che viene usata anche oggi. Elite è un'altra parola che poi è stata usata in tutta la scena IRC, in tutte le prime chat di internet, l'Elite era quello figo, il Lamer era quello scarso, questi vocabili nascono con la scena, quindi negli anni 80, fine anni 80. Le release, cioè le produzioni che vengono fatte dai vari gruppi, vengono poi denominate release, quindi ho rilesato, si diceva in italiano, ho rilasciato, una intro ho rilasciato, una demo ho fatto le cose, e poi ci sono tutte le varie produzioni, cioè quello che facevano questi signori che facevano parte della scena, quindi le demo, le intro che erano quelle che si mettevano appunto nei giochini craccati, le demo che sono l'evoluzione della intro, cioè la intro era quel cosina che si metteva lì davanti, che aveva un bel logo, due cavolate, parte. La demo era una dimostrazione, da qui il nome demo, di quanto sono figo a fare il software, quanto sono figa a fare la grafica, quanto sono brava a scrivere la musica, mettendo tutto insieme e cercando di creare qualcosa che era bello da vedere e affascinante e che attirasse l'attenzione degli altri sceners. La mega demo era la demo ancora più grossa, poi magari la vediamo più avanti che ci sono degli esempi, i music disc dove invece c'erano proprio i musicisti, musicisti che ai tempi magari erano sconosciuti, oggi molti miei amici della scena amiga sono famosissimi DJ che vendono un sacco di disc. Tool disc, slide show, disc magazine, chart, perché disc magazine sono importanti perché le zine, quindi disc magazine, raccontavano la scena e hanno contribuito tantissimo allo sviluppo di quello che era l'invidia e il voglio essere meglio di te. Quello che poi è stato veramente il driver che ha portato a creare l'arte digitale, cioè far vedere che sei più bravo, dimostrare qualcosa, creare, inventare, senza un significato, senza soldi, non c'erano soldi, non si faceva per soldi, anzi se li spendevi i soldi per andare, per scambiare le lettere e andare in giro. I mini charts sono molto importanti, dopo ne vediamo una. Vorrei parlare magari un minuto delle BBS, ma non so quanto sia on topic, non c'era internet, internet, costava tantissimo scambiarsi le informazioni, sia via telematica, quindi telefonando, sia via posta, perché dovevano metterci un sacco di franco bolli. Noi eravamo tutti poveri, eravamo tutti ragazzini, tendenzialmente 15-20 anni, questa era un po' l'età media dello scenario ai tempi. e quindi che cosa si faceva? Innanzitutto le BBS, Ballet Inboard Systems, che erano dei computer messi a disposizione della collettività da parte di personaggi chiamati SISOP, in cui tu lasciavi la tua produzione e gli altri se la potevano prendere, scambiandosela e in questo modo, papapapapa, macchia di leopardo se ne andava in giro per il mondo. Il vantaggio della BBS è che era locale, le chiamate ai tempi costavano diversamente in funzione di se era locale o prefisso o internazionale. Quindi la tua BBS locale, che poi scambiava con un altro BBS, eccetera, ti permetteva con una sola telefonata urbana in realtà di mandare il tuo prodotto in giro per il mondo. C'erano anche altri sistemi di cui non possiamo parlare, perché non erano legali. Blue Box, Freaking, eccetera. E l'altro sistema invece era quello di spedirsi le produzioni via posta. Questa è vera, questa è una lettera che ho ricevuto, forse 25 anni fa, una cosa del genere, non mi ricordo ma c'è nel Franco Bollo, inizio anni 90. Questa viene dalla Denimarca e ci mandavamo i floppy disk. Io mando il floppy disk a te, tu mandi il floppy disk a me, tu lo copi e lo mandi a tutti i tuoi contatti. Io lo copio e lo mando a tutti i miei contatti e questo si chiamava spreading e permetteva alla produzione, alla release, alla demo, a ciò che avevi fatto, di essere vista dagli altri anche per essere giudicata, perché poi c'era il giudizio che era importantissimo. Cosa ne pensi di quello che ho fatto? Questo era un po' il driver. E anche qua c'erano dei sistemi per evitare di pagare troppo, perché io personalmente per esempio spedivo 30-40 buste al giorno da 2.000 lire di affrancatura, neanche lo stipendio di mio padre bastava per pagarle, quindi avevamo i nostri sistemi, non si può raccontare. E qui abbiamo i ruoli, i ruoli che partono dall'organizer, cioè colui o colei, in mio caso, che teneva insieme tutti i pezzi del gruppo. Avevamo il coder, cioè colui o colei che programmava, quindi che faceva il codice in assembly, rigorosamente in assembler, perché ai tempi o programmavi in assembler o gli effetti col cavolo che li facevi, non c'era una capacità di calcolo come oggi, che chiunque, anche se non è capace a programmare, può fare cose bellissime. Ai tempi o eri bravo o non facevi un accidente di niente. I graficians, cioè i grafici, coloro che facevano appunto la parte estetica, i musicisti, gli asci artist, che sono fondamentali, perché nelle BBS la presentazione del tuo prodotto era fatta in asci, perché potevi solo scrivere utilizzando i caratteri dello schermo. E quindi c'era qualcuno che si divertiva a fare i loghi utilizzando i caratteri. Piuttosto difficile. I CISOP, di cui ho già parlato, i COSISOP, che si occupavano appunto di gestire le BBS. I trader, che erano coloro che si collegavano alle varie BBS e scambiavano il software da una BBS all'altra. Gli swapper, coloro che spedivano attraverso la posta e che duplicavano le produzioni della scena. Gli editor, coloro che scrivevano e facevano cose nei disc magazine, che producevano i disc magazine e i cracker, che sono quelli cattivi, che crackcavano i giochi o i software protetti da copyright, a cui mettere la famosa intro fatta dal coder, dal musician, eccetera, eccetera. E questa era un po' la cosa, il come è iniziato. Il come è iniziato è finito nella guerra, ci sono state anche delle guerre famosissime, in cui il gruppo A ce l'aveva con il gruppo B, perché sosteneva che il gruppo B era un lamer, cioè copiavano il software, lo duplicavano, se lo fregavano e facevano le cose dicendo guarda che bravi che siamo utilizzando invece la bravura di qualcun altro, per esempio. Questo era uno dei primi motivi di guerra, oppure perché i più bravi di tutti dicevano ma io sono più bravo di te, io sono più bravo di te, non siamo più bravi di noi e si sfociava nelle guerre, che erano addirittura portate poi nelle demo. C'è una delle demo più famose della storia che probabilmente andiamo a vedere dopo, Nexus 7, in cui c'è un bellissimo scroll che dice Ray-traced scrollers are forever, but infinite Andromeda sends his fuckings. Manda a quel paese Lord Helmet, che purtroppo non è andato a capo, for being a pathetic figure and a pitiful liar, insomma, non esattamente un complimento. Anche in Italia abbiamo avuto una nostra guerra, Rem Jam, il mio gruppo contro Vega, che era un altro gruppo, abbiamo avuto un po' di screzzi, ci siamo fatti anche delle anti-demo, cioè una demo contro l'altro gruppo, è stato molto carino. Era legale o no? Ne abbiamo già abbastanza parlato. No, la scena non era legale all'inizio, lo è diventata crescendo. All'inizio è nata nel dark del cracking e poi si è spostata nell'arte, quindi nella creazione di qualcosa che prima non c'era, cioè nella parte di demo. Tutta la parte non legale non è on topic con la discussione di oggi, quindi la saltiamo. Noi come gruppo nasciamo nel 1989, siamo stati presenti, cioè nasciamo in Italia, a Genova fondamentalmente, Genova e Savona, e poi iniziano ad arrivare membri di Chieti, membri dell'Abruzzo, altre persone del Veneto e poi della Svizzera, e pian piano siamo cresciuti, 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 fino a sfuggita leggermente di mano la cosa, e siamo arrivati a essere anche 200-250 persone sparsi in quattro continenti e 30-40 nazioni. Oggi c'è ancora online il nostro sito, poi vediamo la pagina con ancora la member list dell'epoca, il sito fatto nel 1992 è rimasto esattamente così com'era, non l'abbiamo mai toccato, proprio perché ci piace pensare all'internet di una volta, di com'era, di com'eravamo, e non è inutile adesso mettere le grafiche di oggi, non ha senso. L'Amiga oggi è anacronistico, non è possibile pensare di fare qualcosa di moderno sull'Amiga, ma è la mamma di tutto quello che oggi c'è, e quindi lo raccontiamo con grande orgoglio. Questa è una pagina del libro che abbiamo scritto come gruppo, perché la filosofia degli hackers dell'epoca e della scena era tutto per tutti, tutti devono sapere, e quindi knowledge is not a crime, la conoscenza non è un crimine. Noi abbiamo passato tanto tempo a scrivere quella roba lì, sono 1872 pagine nel pdf, scaricabile liberamente, gratuito per tutti, è bellissimo. Il libro stampato è 404 pagine gratis, ve lo potete scaricare, ve lo potete stampare, la copertina, la cover, è tutto open source, se lo volete stampato pagate la stampa al service, non a noi, noi non ci guadagniamo nulla, e questo libro racconta come si fa a fare una demo, come si fa a fare un videogioco, quindi come si fa a fare grafica, musica e codice insieme per armonizzare qualcosa che abbia una bellezza esteriore. in assembler, piuttosto complicato, trucchi matematici per fare del codice ottimizzato e cose così. Non spiega assolutamente nulla su come fare la grafica e la musica, perché è stato scritto da Coders, da me, da Fabio, da Andrea e da altri ragazzi di Remgem, che ai tempi avevamo pochi anni, giovani, giovani, giovani. Questo libro poi, due anni fa, è stato preso da Alessandro, che è il coautore, è bravissimo, avrebbe dovuto esserci oggi, ma purtroppo non è potuto venire, e l'ha trasformato in qualcosa di stampabile, di versione per tutti, di fruibile, in pdf, piuttosto che stampato, perché originariamente era nato in Ashi, su floppy disk, quindi era in floppy disk, il corso infatti si intitola in due floppy, all'inizio. erano due floppy, sono diventati dodici, sono allegati e si possono scaricare sempre dal sito, è molto 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 carino. Per darvi un'idea di che cos'era la follia degli sceneras, questa foto ritrae la mia camera, questa è la mia camera, nel 1988-87, adesso non ricordo, con la mia amica 500 e le mie 3-4 mila floppy disk, e tutte le lettere, tutte le follie che facevo, la gente, insomma, eravamo abbastanza particolari. Questo è il nostro sito, questa c'è la member list di tutti quelli che hanno fatto parte di Remgem, sono pubblici, sono lì, ognuno usava un nickname, non si usava il proprio nome, tant'è vero che io stessa utilizzavo svariati nicknames, ultimamente ho ottenuto solo Yuki e basta, ma ne ho usati degli altri per fare le cose quelle col cappello nero. Sulla destra la pagina dove è possibile scaricare quasi tutto ciò che abbiamo fatto da internet e se uno ha la fortuna di possedere un'amica, o se non ha la fortuna di possedere un'amica, un emulatore, o un oggetto come il mist che possiamo ammirare giù nello showroom, per poterle far funzionare, quindi vederle vere, vederle come sono fatte, non via YouTube o via un filmato come faremo noi oggi, perché un'altra delle cose incredibili è che dopo vent'anni abbiamo trovato le nostre cose su YouTube messe da fan, appassionati, eccetera, con migliaia, migliaia, centinaia di migliaia, milioni di visite, con commenti che dicono guarda questo è come è nato così, guarda questa è la prima volta che c'è la digital motion, guarda questo è il logo della Pixar fatto da un amichista negli anni 90, è vero, è nato tutto su Amiga, l'abbiamo fatto tutto noi, sembra strano, soprattutto a chi ne ha fatto parte, perché per noi era un gioco, era un passatempo, non doveva essere quello che ha dato poi la base allo sviluppo di un sacco di cose, di artisti, di gente fantastica, molto più brava di noi, che fa cose bellissime oggi, ma l'idea gliel'abbiamo un po' raccontata noi Scheners, e questo è il libro, ce n'è uno qua se lo volete vedere, è anche stampato qua, e queste sono alcune foto, diapositive, tratte da alcune delle demo che magari poi dopo vediamo. In alto a sinistra abbiamo una milestone, perché una milestone? Perché dei ragazzi di 16 anni, dalla Danimarca, hanno riempito una ragazzina, una loro amica di cosini bianchi, l'hanno ripresa con una telecamera, e da quei cosini bianchi hanno preso i punti XYZ e l'hanno digitalizzata, renderizzata. Non era mai successo, l'hanno fatto dei ragazzini di 17 anni in Danimarca. Su YouTube trovate un how to, di quella demo, meraviglioso, è bellissimo, raccontato oggi da questi signori che lavorano tutti in ambienti di produzione tridimensionale per i film, piuttosto che per Hollywood, eccetera, eccetera. Questi ragazzi hanno fatto delle cose fantastiche, quella ragazza su Facebook ha la sua pagina, è un avvocato, oggi non c'entra assolutamente niente, era la fidanzata di uno degli scener che fece quella demo, e il suo malgrado è la protagonista della prima digitalizzazione in tempo reale della storia. E lì a destra abbiamo, da Nexus 7, natural motion, cioè la prima volta che un oggetto tridimensionale viene fatto muovere fluido, quindi come se fosse vero. E anche quello è una milestone. Prima non c'era, adesso c'è. Questi invece sono due esempi di grafica, uno calcolato e uno disegnato. Lì abbiamo un logo dei Melon Design, famosissimo gruppo francese, e qui abbiamo invece un vettore calcolato con una sorgente di luce che si chiama light source, questo è un glance vector, quindi un oggetto trasparente, qui si vede anche in retro, con una sorgente di luce che lo illumina e crea l'ombreggiatura. Uno dice, ma è semplice, no ma ragazzi non è un'animazione, questo veniva calcolato in tempo reale da una processore a 7 MHz, cioè 0,0007 rispetto ai GHz che oggi sono, uno è poco, oggi un processore va da 2 GHz, 3 GHz. Quindi stiamo parlando di un 300 millesimo della velocità e un 300 millesimo della potenza di un iPad. E noi facevamo queste cose che erano piuttosto complesse. Nel libro ci ha spiegato come farli, però non altro volendo. Ok, noi abbiamo fatto delle demo, questa è un bellissimo logo, la demo in questo caso si chiama Massive Killing Capacity, che vinse nel 96, se non ricordo male, l'Italian Gathering, il Gathering in Norvegia, nella miglior demo del 96, e anche l'ultima demo che fece Fabio, Fabio Rendi, che è il massimo, il vero autore del libro, perché poi io alla fine sono l'autrice della versione moderna, ma la versione originale è stata assemblata e messa insieme da Fabio, che era molto 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 bravo, molto più bravo di me. Questi sono degli altri pezzettini tratti da Massive Killing Capacity, abbiamo il logo, abbiamo un fade, abbiamo qua, e purtroppo si vede male, un wrapping su una sfera light sourced, e poi abbiamo uno scroller tipo quello di Guerra Stellari, con differenza che quelli là erano fatti da super computer, questi sono fatti in bianco e nero, e questi sono fatti a colori e con la musica da un computer di casa che tutti potevano comprare. E questa è una foto molto emblematica, è emblematica perché racconta di come questa massa, queste decine di centinaia, migliaia di persone si incontrassero per fare i party, quello che chiamavano i party. I party in realtà nient'altro erano che ti faccio vedere le demo che ho fatto. Tutti i partecipanti al party le votavano e c'era una classifica finale. Ah, il più bravo è quello, la competizione, quella cosa che ci ha portato poi sempre a fare le cose sempre meglio, sempre più belle, sempre più complicate, inventandole. Questo è il Saturn Party di Parigi, io c'ero, l'ho fatta io su questa foto se non ricordo male, questo è il 93, noi abbiamo vinto la demo competition qui, con una demo che poi vi faccio vedere, che oggi sembra una cronistica, ma che è molto 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 carina, almeno a noi piaceva. Questi signori vengono da tutta Europa, c'erano due o tre mila persone, adesso il numero esatto non lo so, venivano da tutta Europa, dai paesi scandinavi, che erano molto bravi, dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Spagna, dalla Grecia, dall'Ungheria, addirittura c'era ancora, parliamo di anni in cui un po' di muro di Berlino era ancora lì da cadere, e venivano lo stesso dai paesi dell'est, cioè questo univa tutti, la Scena ha unito tutti, era super partes transnazionali, e ci incontravamo qua e facevamo queste cose bellissime. Gli spagazini e charts, quello di cui vi ho parlato prima, sono il prodotto finale della competizione. Ogni mese usciva quella cosa lì a destra, che è Showtime, questo è il nostro prodotto, questo lo facevamo noi, quindi io parlo di questo, ma in realtà ne esistevano anche delle altre. Prima di noi c'era la Eurochart, quando hanno smesso di farlo, perché questi ragazzi non riuscivano più a gestirlo, perché sono passati magari a lavorare, sono cresciuti, hanno dovuto andare a lavorare, non avevano più il tempo di fare le cose gratis, e ci hanno detto continuate voi, e abbiamo continuato noi, prima con VeCharts e poi con Showtime. E che cos'è questo? Questo è semplicemente l'elenco dei voti che tutta la scena si dava e ci mandava o per via telematica, via BBS, o per via postale, con le lettere, dicendo la più bella demo è questa qua, il più bravo grafico è questo qui, il più bravo musicista è quello là. Noi avevamo fatto un softwareino che metteva insieme tutto e generava la classifica che ogni mese usciva e raccontava al mondo chi era il più bravo nel suo settore, o chi aveva fatto la cosa più bella, la produzione più bella. E questo era sempre il driver che ha portato a inventare e creare cose sempre più incredibili. I music disc vale la stessa cosa delle demo per la musica. Musicisti famosissimi come Bottin, DJ Bottin, che forse in America è il più seguito DJ che esiste oggi, era un membro di Ram Jam, Jester, Caspers, tantissimi musicisti che facevano parte della scena, oggi sono parte di gruppi o autori musicali, gente piuttosto famosa. E cosa facevamo? Facevamo questi music disc con delle collezioni di canzoni da ascoltare perché era produzione, producevamo canzoni, producevamo musica sul computer di casa, prima non c'era, quindi l'Amiga come base di tutto quello che poi è venuto dopo, l'Atari che ha portato con il MIDI la possibilità di interfacciare gli strumenti e la musica e quindi di fare poi la musica col sequencer, il primo sequencer è il mitico ProTracker o SoundTracker nasce su Amiga e questo SoundTracker è un po' ha durato quasi fino ad oggi per creare musica e fare musica anche sul PC trovate i ProTracker magari con 16.000 canali digitali a 64 KHz spettacolari noi ne avevamo 4 a 11 KHz 15 KHz proprio esagerando però facevamo già delle cose molto molto carine. e questa è un po' la storia spero di averla tenuta nei tempi perché volevo farvi vedere 3 o 4 esempi di che cosa poi veniva creato da questi pazzi che si riunivano in quei parti e che si scambiavano le informazioni prima di internet con dei metodi un po' grossolani un po' così ma che hanno funzionato e che hanno portato a espandere il concetto di faccio una cosa artistica e lo faccio perché mi piace farlo lo faccio proprio perché voglio fare arte e non perché sto facendo un software questo è un po' quello che volevo che volevo raccontarvi guardiamo adesso magari vediamo mi sposto di qua perché devo usare il pc e inizierei da appunto la demo che ha vinto il party a Parigi di cui avete visto la foto di cui avete visto la foto prima che è It Can Be Done che abbiamo realizzato appunto nel 94 anche la digitalizzazione ai tempi era abbastanza fantascientifica e tutto quello che state vedendo video audio digitalizzazioni effetti sta in due floppy disk un mega e mezzo tutto Oggi questa grafica può sembrare pixelosa, strana, ma in realtà ci sono più colori di quanti una miga possa portarle in uno schermo. Ovviamente sono trussi, usavamo dei trucchi per farlo. Dalle 6 facce, con 32 colori diversi ogni faccia, la miga non li supportava. Le prime parallassi non erano esattamente come quelle della PlayStation 4, erano un po' più pixelose. Grazie a tutti. Qui vediamo sincronizzazione musica-effetti. Che contribuiva a creare questa aura di integrazione musica-audio-video-codice. Grazie a tutti. 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 Grazie. Vi suggerisco davvero di andare a vedere l'how to di questo, cercate How To Spaceballs, Spaceballs è il nome del gruppo, Nine Fingers, nove dita è il nome della demo. E' molto bella e loro sono veramente bravi. E come ultima, se poi avanza un minuto vi faccio anche vedere Massimo Kili Capacity, la nostra demo più famosa, vi faccio vedere questa degli Andromeda, gli Andromeda sono un gruppo nordico, quindi norvegese e svedese. E' questa, è una demo vecchia, molto vecchia, con degli effetti pazzeschi, delle cose pazzesche e anche questo è un mega e mezzo, tutto audio, musica, video, non c'è animazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I parti dove queste demo venivano proiettate su dei mega schermi enormi e vedevi questo flash bianco tutto al buio nella notte. Gli effetti erano anche fatti proprio per la location in cui venivano portate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo può sembrare strano ma vi garantisco che è una delle cose più difficili che abbia mai visto fare a livello di codice. fino ad arrivare qua, questo è un oggetto 3D che cammina quasi come fosse vero. potrà anche sembrare piuttosto familiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amiga demo. Amiga demo. trovi un mondo. queste sono scaricate da YouTube. Io stessa sono stata abbastanza stupita dal trovare su YouTube cose che io feci negli anni 80-90 e con milioni di visualizzazioni da parte di gente che assolutamente non avevo neanche idea che a qualcuno potesse piacere questa cosa e riprovarla oggi. già è bellissimo, è una cosa incredibile, è veramente incredibile e vi suggerisco davvero di andare a vedere un mondo, c'è un mondo dietro e scoprirete mille mille cose che oggi vedete nella tv o in un film eccetera ma è nato 30 anni fa sull'amiga e questo è veramente incredibile. Se avete qualche domanda rispondo volentieri altrimenti vi abbandono facendovi vedere Massive Killing Capacity. Andiamo con Massive Killing Capacity. Questa è l'ultima demo di Ramjam prima che ci sciogliessimo, in realtà non ci siamo mai sciolti, continuiamo ad essere amici, continuiamo a vederci, abbiamo una pagina Facebook, però diciamo che l'ultima vera produzione che abbiamo fatto è questa ed è l'ascito di Fabio al mondo e a me piace molto, quindi vi saluto e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.